Ciao ragazzi, Mr. Link è l'esilarante nuovo film d'animazione stop motion dello studio Laika, che vede protagonista una delle questioni scientifiche più dibattute al mondo. La ricerca della creatura più leggendaria del pianeta, l'anello di congiunzione tra i primati e i sapiens. Mr. Link, appunto. Da sempre gli uomini vogliono fare chiarezza su queste figure mitiche o mitologiche, cercano una verità al di là di quello che è apparente. Sir Lionel Frost, coprotagonista del film, biologo dunque scienziato, ma anche avventuriero, coraggioso, vuole dimostrare a tutti di essere il migliore nella ricerca di queste creature fantastiche e mitologiche, anche per entrare in quella società scientifica che invece lo evita e lo tiene di sparte. Se pensi di poter fare di meglio, Frost, sei fuori di testa. Mi hai sentito? Il Bigfoot, detto anche Sasquatch, piedone in italiano, è una creatura mitologica e straordinaria, anche mostruosa per certi versi, come un grande uomo peloso, che vivrebbe però soltanto nelle foreste dell'America del Nord, dunque con una folta belliccia, alto 2 o 3 metri, pesante fino a 200 kg, che nessuno ha mai visto direttamente se non da molto lontano. Tu sei esattamente come immaginavo, 2 metri e mezzo, torace di 177 cm, 295 kg. Ecco, io direi più 285 kg, sono i peli che mi fanno sembrare più grosso. Qualcuno ha cercato di stabilire se c'è una discendenza fra qualche specie relitta di sapiens che poi si è isolata laggiù e che magari è sopravvissuta fino ai giorni nostri, un fossile vivente. Altri hanno pensato a una forma di gigantismo di alcuni uomini che sono lo stesso rimasti isolati. Al momento nessuno conosce la verità. Mr. Link si accorge che si sente solo, del resto è l'ultimo della sua specie. Dunque intraprende con lui un avventuroso viaggio di ricerca verso i suoi parenti più vicini, che per noi sono appunto gli ieti delle montagne himalayane. Noi non sappiamo affatto se questa storia è vera e dove eventualmente ci porterà, ma ci intriga e ci affascina la storia e anche la ricerca. E voi? Ci credete a Mr. Link? Vibi l'avventura! Vira il salvo gente! Eccomi! Non fa caldo qui! Perché non provi ad aprire il finito?